Cianellini, dove siamo? A pranzo! Con la zia, le aziette! Con Paulina e la zia! Cianellini, cianellini! Dove siamo? Da JFAI, London! Wow, adoro! E chi ci abbiamo qua? Wow, wow! Ciao! E qui chi c'è? La nostra Ale con Cianellini e la zietta! L'ho beccato! Un altro paparazzo! Noi siamo qui da Dior con la mia super Rafi! Ciao! E chi c'è qua? Cianellini e la zietta! Nel salottino! Siamo pazzesche! Mamma, che bello! Che dici, Cianellini? Per Michelino, ti piace? Dai, tu guardi il passeggino! Eh sì, brava!